Ma giusto per chiudere E' l'Azio E' l'Azio E' l'Azio Cogna E' l'Azio Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Con questo nuovo video in cui Signori cosa stiamo andando a fare secondo me con questa felpa Che giorno è oggi Cioè per voi è l'8 maggio effettivamente Però per me è il 7 Perché stasera saremo tutti quanti Nel ristorante le streghe sulla Tuscolana Per vedere assieme e commentare Io si e voi no Milan Roma Quindi dai regà Quindi io adesso sto uscendo di casa Per raggiungere il mio autista Che vedrete dopo Chi sarà incredibile Ospite d'eccezione E noi ce ne vediamo dopo Bella regà Allora regà Mentre aspetto il mio autista Come vi stavo dicendo Perché sono VIP Grazie E ho trovato due persone Che vi vogliono fare un saluto Allora come vi chiamate? Tiziano Thomas E soprattutto lui è della Roma Ma fa di cognome? L'Otito Ecco quindi questo è tutto dire Oggi a Lazio chiamano Fattisetta La Sandovia Magari a Roma stasera Gli ne fa sette al Milan Regà ci ha fatto aspettare Ma adesso in esclusiva solo per voi Mamma mia Quale onore Quale onore No davvero Quale onore Se lo stanno a chiedere pure loro La Pannotta Tuscolana Che devo fare? No tu parla Non ti preoccupare Io parlo Ti ottengo La Pannotta Tuscolana Bene Da SIC Bene bene Da SIC però Vede la Roma Bravissimo Bravissimo Stasera regà Il Napoli ha vinto Tocca vince Tocca vince La Lazio gli hanno fatti sette alla Sandovia Sette Sette a tre E quindi noi alla Juve Non pensiamo più Anche perché mi pare ovvio Però Però al Napoli si ragazzi Tra 200 metri Girate a destra Anche il navigatore è convinto Di tutto ciò Ragazzi siamo Siamo arrivati all'evento Come vedete Questi sono tutti i fan Tutti i fan che ci aspettano Noi siamo giustamente Con tutti Con tutte le scorte Che abbiamo intorno Ma ci sono quante tazze Esatto Però L'autostima è tutto nella vita Quindi ci arriveremo anche noi Prossimo evento Al Colosseum Esatto Dai Ragazzi siamo qui fuori Al ristorante Le Streghe Guardate Eccoci qui La cosa figa è che noi siamo in ritardo Ma in anticipo Rispetto agli altri Perché Sik Dice alle 6 Alle 6 lui non c'è E' vero E' vero Non c'è nessuno Anzi Gli avriati gli hanno detto Ma voi siete degli SR Music Noi veramente no E quindi adesso vediamo Appena arriva qualcuno Ve lo faccio sapere Ma voi pure dei carri Che cazzo Vai di qualcosa Qualcosa di sensato Qualcosa di sensato Ma scusa Dopo questa ti vanno in canale Che di casa deve tanto Già ci pensare Le restrizioni Lo sapete che Gabbo Si è sbagliato Era convinto Ad andare a matrimonio Io No veramente no Questo è dedicato all'Inter Perché non so se sapete Quello che ha fatto l'Inter Io mi sono vestito apposta Ma non parliamo di squadre Che hanno perso Perché stasera gioca a Roma Esatto Io dico una cosa Io dico una cosa L'ultima volta E' stato piuttosto Ritorale Che non lo sapevo Ma è stato È stato Lazio-Roma 1-4 L'anno scorso Ha portato bene Speriamo bene E c'era qualche cosa Che perdemo Non parliamo Non parliamo Perché c'è gente Che parla da Roma Prima da Roma Esatto E non si fa Bravito Allora signori Siamo all'interno Del ristorante Siamo tifosi della Roma E l'evento sta per ricominciare Perché sono addirittura Le 19.01 E abbiamo un Pablo giallorosso Che ci sta facendo da camera Ma io autorizzo il cameraman A riprendere si stesso Sia io che te usciamo Andiamo a farci una passeggiata Perché dopo dovremo stare dentro Fino a tardi Troppo 11.30 Mezzanotte Mamma mia Dicevano Dicevano Quindi Un sacco di roba C'è già gente Che teoricamente è arrivata Qui Per Un evento Dicevano Gente che saluta Addirittura Siamo salutati Da persone Che sono qui E c'è anche un bomber Di quelli importanti Un bomber di quelli importantissimi Signori Perché presto uscirà Un video importante Quante volte hai detto importante? Troppo Troppo Però tu sei Importante Pure quello Sono insieme Lui è poco bello Lui è poco bello Lui è poco bello Lui è poco bello Davide cosa dicevi? Ti volevi mettere la maglia da Roma ma? Ma ci ho dubbiato Quindi non mi ha commesso Non è che ho portato Ti ho portato una cosa? Sì vai Dicevano Il menù Ah ok Lei si sente Di Roma Vuole far vedere La professionalità Che è presente In questo posto E la non professionalità Di Sequelf Che ha fatto Una miniatura? Ma Aspettate Ma che cazzo Ragazzi Comunque guardate Quanto è buono Sespo Nell'ultima foto Raccoglie Raccoglie fiori E guardate il commento mio Quanto è buono Il commento mio Che è innocenti Andatevi a seguire su Instagram Merde Meno un'ora La partita E con questo sfondo Vabbè intanto non gioca È inutile che ci speriamo E fu così che giocò E fece 12 reti 12 reti non lo tira Manca la nazi oggi Sicuro Buono Con Spalletti in gioco No in gioco Manco quei sbagli Però comunque Loro mangiano Però già mangiano Perché sono Sono i VIP della situazione Quindi Partiranno al commento Noi mangiamo più tardi Comunque si sta cominciando a riempire Come vedete C'è gente qui dietro Figure Figure Ma soprattutto Grazie a David Rubino Sapete cosa c'è? La gna gna E David ragazzi Ha il suo perché Esatto Ha il suo fascino Ancora non capisco il perché Però Capito Il fascino latino Finciolo Latino, americano Francese Un po' tutti C'erai Se vede che è quello Capito Un po' sta so single Sto a pensare Siamo Mestrozzo Allora Quella è la faccia di chi Sta rimorchiando In questo momento Andrà così Il primo tempo Lo commentano Lui E lui E il secondo tempo Io E io Eh? Eh? No perché lui in realtà Era timido Non vuole commentare Già Ma vuole Gli partiva No Mi partiva Allora O io e lui O io e io Che provo Se non mi gaccia Chiudi il video un po' Così Lo chiude il video Sì 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 Ma ti guarda la parte di Dario Ok Dici come finirà la partita Ce l'aggiorniamo Ma attenzione E me 2 a 0 2 di 0 2 di 0 2 di Nengolano Ti ha ripensato E 4 di E 2 di Devo Ok Allora Dopo ce la ci indirizzo Se non è vero Devevi cercare A sottolineare E non c'è la partita Per il frattese E tu mi rita Mazzato Subito C'è una cosa Parola Bacchamia E di Gecko E di Gecko Assegnato Gecko Marco Assegnato Per la Roma Con il numero 9 E di Gecko E di Gecko E di Gecko Gecko E di Gecko 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 A fine primo tempo Siamo 0-2 Quindi è perfetto così Adesso tocca al sottoscritto che non è voce E quindi Stiamo nei guai seri Però vediamo un po' Forza Roma Ritorna pure al paese Tu Andrai caprette Te fanno Ciao Fuori 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 anche se avessi più confidenza confideremo in relazione appena segnato il Milan Rubino appena segnato il Milan e tocca a te Rubino hai un ruolo fondamentale chiediamo per te se sentite questo boato negativo è perché sta per entrare Bruno Ceres questa è l'immagine più bella ciao Napoli la partita è finita 4 a casa 1 a 4 per essere decisi che tra l'altro è come l'ultima volta che soprattutto qua ve l'avevo detto prima al derby dell'anno scorso di aprile 1 a 4 e che dire e Napoli torna giù un saluto a Fuse Game forza Romale forza Romale forza Romale ma giusto per chiudere e la Lazio resta e la Lazio resta Cogna e la Lazio taglie sul E la Lazio per chiudere per chiudere per chiudere